Partite IVA, professionisti come avvocati o giornalisti, micro imprese che non hanno accesso al credito bancario. È la platea allargata del terzo bando regionale sul microcredito d'impresa, un pacchetto da 42 milioni di euro di aiuti da girare in prestiti a tasso zero per superare la stretta creditizia delle banche. I beneficiari potranno ottenere i fondi nel giro di due mesi dalla richiesta senza alcuna garanzia presentando un business plan per realizzare nuovi investimenti. Il mutuo agevolato andrà dai 5 ai 25 mila euro da restituire nel giro di cinque anni. Tra le condizioni di accesso la sede operativa in Puglia, sei mesi di attività prima della domanda e meno di dieci addetti. Tutti i settori sono finanziabili ad eccezione di pesca, agricoltura, zootecnia, attività finanziarie, assicurative ed immobiliari, noleggio e leasing, lotterie scommesse, organizzazioni associative e del commercio. Noi in Puglia, invece di maledire le banche come fanno in tutta Italia, diciamo abbiamo lavorato perché si desse ossigeno a coloro che hanno bisogno di soldi per salvare e rilanciare un'azienda. La Regione Puglia dà fiducia ai suoi artigiani, ai suoi piccoli imprenditori, ai neoprofessionisti. Quella fiducia ritorna alla pubblica amministrazione, tant'è che il 90% dei prestiti rispetta, ritorna nelle casse regionali.